Ciao a tutti ragazzi, sono Wilde bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, siamo sulle Anaclitis del mio canale. Ragazzi, vorrei un po' parlare del mio canale. Infatti, se sei 184 o più del solito, queste sono un po' le mie Anaclitis. Ricordo che le mie Anaclitis sono molto di più verso questa metà di tempo. Però, queste sono le visualizzazioni per ore. Qua 0,65. Ragazzi, andiamo a vedere i contenuti. Ho fatto tante visualizzazioni, to' qui di più con questi due video. Perfetto. Gli shorts, andiamoceli a vedere. Non mi piace. N di mi piace. Il numero di mi piace è 17. Ecco, questo è lo short che ho raggiunto le 15 visualizzazioni. Quindi uno dei più famosi. Andiamo a vedere dal vivo. 9 visualizzazioni. 630 impressioni. E queste sono un po' le mie Anaclitis. Il pubblico. I nuovi arrivati sono stati il 3 giugno. Sono stati 54 spettatori unici. Ragazzi, se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Però, ragazzi, non mi vedete sempre i miei video. Perché non li dovete rivedere. Come la percettuale dei non iscritti è tanta. Ragazzi, iscrivetevi. Dovete iscrivetevi al mio canale. Vediamo un po' le nazioni del mondo. Vabbè, l'unica nazione del mondo che guarda i miei video è l'Italia. Vabbè, non ne dovitavo. Italiano, nessun sottotitolo. Ragazzi, la maggior parte di iscritti hanno i 18 e i 24 anni. Ok. Ragazzi, iscrivetevi. Cioè, guarda quanto a percentuale di voi non è iscritta. Cioè, voglio... Guardate. No, voglio così. Voglio farlo così. Voglio che sia così. 100% di iscritti. E lo 0% non iscritti. Quindi, ragazzi, obbligatevi a farlo. Allora, ragazzi. Se guardiamo un po' i contenuti. Vi piacciono molto questi due video. Ovvero, le Bad Roads. E Stumble Guys. Ma non mi diverto. Quindi, ragazzi. Questo è il mio canale YouTube. Oltre andatevi a vedere anche sto video. Perché è molto bello. E ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Dove spiego il mio traguardo dei 50 iscritti. Che sono veramente, veramente felice. E ragazzi. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao.